Possiamo dire i nomi dei partecipanti o solo i numeri, meglio la numero 153, la numero 21, la numero 32 Grazie a tutti Allora, ho tutti i numeri, la numero 23, la numero 28, la numero 79, la numero 32, 21 e 153 Competono per il trofeo miglior testa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti